l'ariatto destinazione puro reso l'episodio numero 204 eccoci qua ben ritrovati io sono stefano una delle voci della tovella del ring il conduttore diciamo che ha iniziato l'avventura di l'ariatto al mio fianco anche oggi la persona che ha preso poi il timone di questa rubrica che parla di puro reso che mi sta aiutando tantissimo e stiamo facendo un lavoro lungo ma devo dire molto molto bello ciao micchi ben ritrovato ciao grazie mille allora siamo qui per parlare di ddt stiamo seguendo il torneo in modo abbastanza regolare saremo praticamente in questi giorni di fronte all'ultimo show prima della finale e quindi siamo qua anche per tirare un po le somme siamo qua per tirare le somme ma anche per dare una notizia che è brutta ma non bruttissima quindi diamo il bentornato anche al murasaki ronome praticamente un malessere diffuso da parte di chris brooks l'ha portato a fare un controllo e questo controllo ha denotato che c'era una massa tumorale nello stomaco quindi è stato fermato dall'attività di valestra per un po di tempo giustamente si dovrà curare il tumore non è maligno quindi fortunatamente le cose insomma sembrano andare in una direzione molto molto buona però c'è un problema va risolto un problema che si può prendere e sistemare va preso e sistemato come tutte le cose e noi in primis auguriamo una prontissima guarigione a chris brooks ci auguriamo ovviamente che torni ma non dico subito ma prima di subito e speriamo che le cose si sistemino per lui per la sua carriera e per tutto quello che comunque lui sta facendo barra ha fatto e che insomma vogliamo vedere fare ancora in futuro da queste comparsate a livello di lottatore sotto contratto della ddt fino ai suoi lavori con baka gaijin fino ai suoi lavori da creatore di maglie e di grafiche insomma tutto quello che fa chris brooks è bello interessante c'è simpatico e gli auguriamo veramente il meglio in assoluto micchi siamo qui riuniti però per parlare di quelle che sono state due giornate e dice un pochino come si sono sviluppate quanti match hanno avuto insomma il weekend scorso della ddt sì allora sono state due giornate il 16 e il 17 caricate poi qualche giorno dopo sul vasto di universe quelle del 16 l'hanno caricata il 19 mi sembra e il 21 quella del 17 qualcosa del genere sono stati cinque incontri nella nella prima giornata e due nella nella seconda e quindi nel potenzialmente ne rimanevano fuori cinque perché poi andranno in scena il 24 domenica nella vigilia ma che sono in dati quattro perché è giustamente cross box doveva lasciare l'ultimo l'ultimo incontro quindi gli ultimi due punti andranno poi ha risaito che doveva affrontare proprio proprio cross box e di verso la fine poi vi facciamo vedere anche anche la classifica e soprattutto abbiamo visto solo quelli del torneo perché gli altri incontri erano abbastanza blandi quindi sono quelli un po per riempire la card quando quando ci sono questi tipi di tornei gli altri incontri della ddt sono magari un po più un po riscono qualcosina ma poco sì assolutamente sì vediamo il primo di questi incontri subito 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 parliamo di chris brooks e della sua sconfitta contro kazuki irata che sfruttando ovviamente insomma tutti i suoi sotterfugi che poi in realtà sono super poteri che poi in realtà sono poteri che in realtà è la musica che parte quando lui infila gli occhiali e batte un chris brooks che ovviamente esce da da poco da un regno titolato quindi l'ultima cosa che avrebbe potuto fare era vincere un torneo se irata doveva fare dei punti chris brooks era la persona ideale per farglieli fare garata ha fatto dei punti li ha fatti contro chris brooks il match è stato molto divertente non ci aspettavamo di vedere l'incontro stellare ma ci aspettavamo di vedere qualcosa che ci colpisce da un punto di vista dell'intrattenimento e io devo dire sono stato molto soddisfatto sia del lavoro di rata che del lavoro di brooks singolarmente che del lavoro che hanno fatto insieme che è stato estremamente simpatico e che ci ha intrattenuto secondo me nel modo migliore possibile mickey si è andato andato molto bene come come incontro non mi aspettavo la vittoria di rata ma ha funzionato comunque la preda proprio al volo con un roll up tanto per portarsi a casa i due punti era distrutto dopo questo incontro e parente non si è neanche accolto di aver preso questi questi due punti l'incontro è andato molto bene però secondo me lo stanno costruendo in modo molto molto divertente in non sarà mai poi il lottatore che ti ruba la scena per i meccioni ma all'interno di un posto come la ddt funziona un sacco è veramente divertente vederlo cioè se hai creato questa cosa degli occhiali che è una cagata ma funziona tantissimo c'è la gente che è contenta di vederlo che poi è fondamentale per la ddt in realtà è fondamentale per il wrestling ma lui questa cosa che prende a casa delle borse prende gli occhiali perché ogni incontro almeno un paio anche sta cosa che in tutti gli incontri gli avversari si sono messi gli occhiali per far partire la musica e prendere un po il suo posto è una roba che è stata molto molto simpatica sì assolutamente sì assolutamente sì secondo incontro il nostro amico reisaito batte canon canon che insomma ha lavorato ha fatto quello che che poteva portando a casa anche due vittorie ma reisaito uno di quelli lanciati diciamo che sta facendo molto bene si è portato a questi sei punti con la vittoria contro canon quindi superandolo ma superando in realtà tantissima altra gente e qual è il punto il punto è che reisaito il match successivo l'avrebbe avuto contro chris brooks il match non si farà quindi reisaito si catapulta a otto punti e quindi ci sarà un solo modo per scalzarlo poi capiremo quando guarderemo la classifica però insomma reisaito è in un momento molto molto favorevole addirittura potrebbe anche presentarsi alla finale fate voi l'incontro in sé dimenticabile insomma micchi si non mi ha fatto impazzire in questo torneo reisaito capisco il fatto di fargli vincere un po' di incontro è comunque quello che viene dall'ol japan quindi quello che viene da un'altra promotion quindi lo devi lanciare un po' però non è non è il tipo di lottato che che mi interessa poi è per metà gaijin quindi anche una parte che può interessare con una parte di pubblico e quindi ok va bene ce lo teniamo ha fatto il suo per quello che poteva dare ha fatto anche bene il tonio poi non è quello che che mi interessa vedere canon sta migliorando ma comunque qualcosa che al momento non mi non mi sta convincendo poi su tutto canon deve migliorare qualcosa e al momento non riesco bene a capire cosa devo capire quali sono i punti che non stanno funzionando per poi scrivergli di cambiare migliorare alcune cose così poi nel futuro potrò apprezzarlo di più o di scrivere la babbo natale sì che potrebbe essere matt poli bellissimo non so come si chiama adesso non mi ricordo più molto 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 interessante torneremo a parlare ovviamente di reisaito più avanti blocco a sempre iguchi riesce a battere yukino in un match che ci sta iniziato sul discorso della forza portato avanti sul discorso del menarsi in un determinato modo yukino che avendo abbandonato la gimmick del sexy è un po più in difficoltà a mostrarsi e venire fuori anche a livello di personalità i gucci sempre è un piacere vedere lottare credo sia uno dei miei preferiti da ddti micchi si gucci sta andando molto bene si è costruito con l'ultimo torneo quello che poi la portata vince anche il titolo ha fatto un ottimo percorso e si ha scalato le case diventando anche dal mio punto di vista comunque uno dei migliori uno di quelli che può dare molto alla federazione è proprio un tipo di lottato che mi che mi diverte yukino si è tolto questa gimmick un po c'è non non è che se l'è tolta lui l'hanno obbligato a togliere la gimmick di sexino e deve un attimo ritrovare la sua strada cioè non ok sul lottato non è mai stato un fenomeno ma al momento è troppo anonimo e non quindi deve un attimo trovare cosa vuole fare da grande così serve relativamente a poco per una promotion del genere perché non ha un personaggio che la diritti si basa molto poi sui personaggi e lui al momento è nullo e di fra i suoi match se c'è non c'è non te ne accorgi quasi mentre invece prima aveva uno slot di ogni card che era suo e quindi deve trovare il modo per riprendersi uno slot all'interno della card sì sì assolutamente sì assolutamente sì sempre in questa giornata nel blocco a yuki ueno batte arashima arashima che si è vinto un incontro all'inizio e poi dopo è diciamo è clissato si è comunque uno dei campioni della ddt ci sta tutto che perda e quant'altro il match è stato decisamente buono magari sono mancate quelle azioni super brillanti e belle a cui ci ha abituato soprattutto ueno però diciamo che il potenziale è stato comunque rispettato piuttosto bene un match che ha divertito è stato quello che doveva essere insomma amici si è andato andato bene arashima alla fine fa fa sempre il suo non gli serve a niente vincere non è lì per cercare di far brillare un po gli altri e comunque ha conosciuto lotta da da vent'anni e se è quasi sempre stato esclusivamente il ddt quindi anche il pubblico ormai ci ha affezionato e sta ha fatto il suo torneo facendo dei buoni incontro senza brillare poi dal dal non ha mai vinto cose cose va benissimo così ueno è campione quindi deve comunque magari non arrivare in finale ma deve comunque arrivare un po in altra il torneo perché giustamente sei campione e devi farti devi farti vedere devi farti vedere ne ha perso uno mi sembra ueno e pareggiato un altro quindi adesso deve arrivare verso la fine capire un attimo se riesce effettivamente ad agguantare la finale o se deve mollare un po il colpo però vabbè comunque un buon incontro che è stato divertente è passato via abbastanza bene assolutamente d'accordo per chiudere quella prima di due giornate daisuke sasaki batte tetsuya endo in un altro match in cui tutto il pubblico urla per endo endo terrificante ragazzi terrificante veramente 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 ma il match è partito diciamo bene come doveva andare sasaki ha ovviamente dalla sua parte tutta una serie di scorrettezze possibili di modi di fare deprecabile quant'altro che non ha tetsuya endo in questo momento sfrutta qualcosina daisuke sasaki sicuramente sfrutta la possibilità di vincere e si porta a casa quella vittoria che potrebbe cambiare completamente il destino di insomma il suo destino quindi micchi come come ti è sembrato questo scontro come hai visto sia sasaki che endo è stato un un buon incontro anche questo comunque sono due che si sono incrociati già un'infinità di volte quindi è andato è andato bene è andato bene sasaki mi sta piacendo di più sicuramente perché ha iniziato a lottare un po di più avere meno meno scopertezze qualcosina fa perché giustamente è il tipo di personaggio il tipo di lottato che ha sempre avuto almeno nell'ultimo negli ultimi anni quindi è giusto che vada avanti così però si è limitato un po di più in questa zona e ho fatto quello che ha cercato di portarsi a casa le vittorie in un modo un po più pulito è venuto fuori un buon incontro ponendo che continua ad essere super attifatto come dicevi notare te e che quindi magari non riesce a vincere a questo torneo manesce in un ottimo modo perché se hai tutto questo pubblico dalla tua parte qualcosa poi riesci riesci a fare decisamente sì decisamente sì si chiude questa giornata ma se ne apre un'altra dove ci saranno quindi solo due match il problema di quale vede ovviamente Daisuke Sasaki battere questa volta Yukino e inserirsi in un contesto non indifferente perché Daisuke Sasaki arriva a cinque punti che non è assolutamente male a questo punto Michi Yukino come sopra Daisuke Sasaki come sopra cioè non è cambiato niente in questi in questi due incontri cioè quello che abbiamo detto per uno vale quello che abbiamo detto per l'altro vale cosa dici sì ebbene alla fine avendo poi due giornate così attaccate non è che cambia moltissimo non è che puoi costruire più di tanto alla fine abbiamo appena detto quindi va bene così sì io fossi voi comunque le virgolette per riprendere esatto fosse voi comunque anche questo recupererei che non è affatto male mentre invece chiudiamo con mo che batte canon mo che ovviamente arrivava questo torneo con una cintura quindi deve muoversi in un determinato modo riesce a battere canon che insomma è un personaggio che in qualche modo ogni tanto torno quindi il fatto di essere stato battuto ogni tanto farà tornare canon da qualche parte e lo vedremo e prenderà poi botte prima di riuscire a raggiungere qualcosa è indefinibile canon è arrivato in pompa magna per quanto ci riguarda aveva fatto un paio di cose bellissime subito e poi dopo si è logorato da solo l'incontro per me è stato molto bello probabilmente uno dei più belli lottato come si deve anche da un punto di vista personale secondo me hanno fatto qualcosa di molto molto interessante molto intenso sono soddisfatto di questo main event per quanto riguarda il torneo e ovviamente quando guarderemo le classifiche e capiremo gli incroci credo che anche a voi piacerà aver visto mao vincere contro canon mickey come ti è sembrato questo match è andato è andato bene l'aiuta aiutato canon a far uscire un po il potenziale che ha ma che al momento è abbastanza nascosto e ha dimostrato canon che con l'avversario giusto riesce a fare meglio quindi che è una cosa che ok capisco ma devo uscire a scavalcare ed essere lui quello che aiuta gli altri in qualche modo cioè uscire a far bene più o meno con tutti che quello che dall'altra parte fa ma o ma lo metti parente contro chiunque e riesce a farti bene se deve farti il meccione se te lo fa se deve farti il match comedy te lo fa se deve farti il match al core match chiamatelo come riesce a farlo quindi che poi ha un po la forza della della ddt cioè avere lottatori che riescono poi ad adattarsi abbastanza bene ad ogni tipo di di lottato canon deve entrare un po in quell'ottica lì però li ha fatto bene perché con controllo poi è sempre utile fare un po di un po di gavetta ti incroci con un po di gente riesci a portare avanti il tuo il tuo personaggio quindi va benissimo così va benissimo decisamente decisamente ovviamente se qua terminiamo con gli incontri lottati possiamo provare a fare così due parole per quanto riguarda invece il tabellone e come si presenta micchi se vuoi leggevolare la grafica agevolo agevolo allora nel blocco a ci sono i gucci a sei punti ueno e sasaki a cinque endo a quattro yukino e rashima a due yukino e rashima sono già matematicamente fuori da tutti i giochi per quanto riguarda la parte sotto i gucci mi auguro fermamente che possa vincere lui e sugli altri va bene tutto però i gucci e i gucci tanto io lo vedrei in finale magari non a vincerla però in finale ce lo vedo sì volevo dirti i due match che rimangono per capire un attimo come possono cambiare le cose abbiamo yuki ueno contro yukino che potrebbe essere fondamentale per ueno inutile per ino ma potrebbe essere quello che in realtà è inutile per ino che è fuori però potrebbe scombustare i piani per ueno una vittoria di ino e tenere ueno a metà classifica bloccato lì che da un lato sarebbe anche giusto perché è sempre la stessa cosa che campione meglio se non arriva in in finale l'altro match è endo contro i gucci che potrebbe portare avanti endo e oppure consacrare i gucci esatto perché così metti che ino vince e vincendo vincendo a yendo che passa perché avendo battuto i gucci e l'altro che rimane fuori è sasaki contro arashima ok 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 che anche qua potrebbe scombustolare i piani per sasaki una vittoria della scima o lanciarlo anche lui abbastanza in alto siamo che ci sono secondo me tra i nomi che potrebbero vincerlo questo girone io spero i gucci ma sasaki è abbastanza lanciato secondo me sì sì è vero ora direi che da qua possiamo uscire andare a prendere no no c'è il blocco b in realtà c'è Reissaito che prenderà due punti per il forfè giusto di Chris Brooks e quindi abbiamo la possibilità che yuki o naia arrivando a 8 punti anche lui quindi vincendo il suo match vada a cancellare la possibilità di Reissaito perché i due quando si sono affrontati yuki o naia lo ha battuto quindi direi che ci siamo esatto c'è solo un match del blocco b il 24 che è quindi se naia vince su mao ha vinto il suo girone se perde su mao ha vinto Reissaito sì se vince su mao ha vinto Reissaito se invece mao vince su su naia passa Reissaito perché lo scontro diretto Reissaito aveva battuto mao quindi bel disastro bel disastro direi che questo qui è un pochino come sarà sarà divertente sarà sicuramente interessante Michi ricordiamo quando è la finale poi dopo che la prossima settimana si saranno giocati un po' quello che rimane sì allora 24 l'ultima giornata e poi il 3 gennaio ci sarà la finale primo secondo posto probabilmente si giocano e basta non c'è non c'è nient'altro c'è da aspettare un pochettino però può essere interessante comunque come come risoluzione perché il torneo alla fine non è andato male è stato un po' in sordina avendo poi spezzettato così solo nei weekend si è perso un pochettino magari però come incontro alla fine è stato molto godibile dal mio punto di vista ma sì ma sì ma sì bene direi che per oggi abbiamo concluso anche questa puntata 204 di Lariatto torneremo a parlare di DDT magari prima della finale proviamo a vedere un pochino a dare i nostri pronostici su quello che potrebbe essere l'ultimo match per decretare il vincitore di questo torneo chiaramente e logicamente torneremo molto presto per parlare di altro pur reso quindi grazie a tutti quelli che sono venuti a farci compagnia che sono venuti a mettere il like che sono venuti a parlare magari con noi io leggerò tutti i commenti cercherò di rispondere a tutti ovviamente il mio ringraziamento principale va a Michi perché si è portato ancora oggi sulle spalle praticamente tutto il lavoro grazie a te è stato un piacere ragazzi ci sentiamo molto molto presto con un altro episodio di Lariatto destinazione pur reso voi continuate a seguirci grazie di cuore io sono Stefano la voce una delle voci di questo progetto noi ci risentiamo alla prossima grazie a tutti